Sì, buongiorno. Da Montaguto? Sì. Ma vieni da? Parma. Da Parma, quindi facciamo un saluto a Parma. A Parma intanto. A tutti i montagutesi a Parma? In Italia? È all'estero. Qualcuno ci sta? A Parma no? Fuori Parma. Fuori Parma? Ci sono, ma non a Parma. Nella provincia? Nella provincia di Parma. E allora facciamo un saluto qui da Via Roma. Sì. Vai, campo libero. Ciao a tutti. Ciao a tutti.